Nella giornata dedicata alla memoria dell'olocausto, qualcuno ha fisso sulla ringhiera del parco Isaac Rabin in via Panama un cartello con scritto «Olocausto, menzogna storica, Hitler per mille anni». I carabinieri lo hanno rimosso e ora cercano i responsabili che si sono firmati milizia. Ma se c'è qualcuno che ancora pensa di negare la storia, sono tantissime le iniziative organizzate in questo e nei prossimi giorni per far conoscere soprattutto ai giovani ciò che accadde in Europa durante il periodo nazista. Questa mattina in via Tempio di Giove, con una cerimonia e una targa, sono stati ricordati Aldo e Bixio Pergola, due dipendenti comunali licenziati a seguito delle leggi razziali e successivamente deportati ad Auschwitz. Alle 18 una fiaccolata ha sfilato da Piazza dell'Esquilino a Piazza degli Zingari per ricordare gli stermini dimenticati di rom, sinti e camminanti, ma anche di omosessuali e disabili. Quest'anno ricorrono i 70 anni dall'abbattimento dei cancelli di Auschwitz. La Casa della Memoria e della Storia ha organizzato un programma di attività che va avanti fino al 30 gennaio con proiezioni di film, documentari, testimonianze e interviste, conferenze, letture e presentazioni di libri ed una mostra. Il Teatro di Torbella Monaca, fino al 1 febbraio, ospita una mostra collettiva sui luoghi e i fatti della resistenza e della liberazione di Roma tra il 1943 e il 1945. Nello stesso teatro, il 30 e il 31, lo spettacolo La Versione di Slomo. In collaborazione con ATAC, dal 27 gennaio al 15 febbraio, al Parco Museo Ferroviario Piazzale Ostiense, ma in scena l'istruttoria, la testimonianza di un viaggio all'inferno che inizia con l'arrivo di un treno e finisce in un forno crematorio. Tante le iniziative organizzate dalle biblioteche di Roma. La Franco Basaglia, in via Federico Borromeo fino al 14 febbraio, propone la mostra documentaria La Shoah per non dimenticare. È un ciclo di film a tema per gruppi organizzati e scolaresche.